Neppure quello di stasera sarà il vertice di maggioranza decisivo e salvo colpi di scena che i più considerano remoti si dovrà aspettare ancora per sapere se e soprattutto come il sindaco Roberto Cenni tenterà il bis. La riunione servirà semmai a scaricare qualche mal di pancia. Che c'è? Forza Italia, Lega Nord Toscana, Nuovo Centrodestra, Udc e socialisti riformisti devono vedersela con la volontà del sindaco di scendere eventualmente di nuovo in campo con una sua lista civica. Una soltanto, una grande lista civica e non come la teoria di qualche partito vorrebbe, con tante piccole e minuscole liste che sì convoglierebbero più persone ma difficilmente riuscirebbero a mettere insieme tanti voti quanti ne bastano per eleggere almeno un consigliere comunale. Una proposta, quella dello spacchettamento, che il sindaco avrebbe annusato e rifiutato già. La lista civica non fa dormire sonni tranquilli, questo è sicuro, perché il sentimento dell'antipolitica gioverebbe certamente a un sindaco che ha dimostrato il suo peso personale al ballottaggio del 2009. Un vantaggio per la lista civica, un pericolo per i partiti, ancora di più per effetto dello sgretolamento del PDL che non è riuscito a mantenere tutte le quote. Molti ex aenne, per esempio, non sono confluiti nessuno dei due nuovi partiti e sarebbero pronti a travasare i loro voti nella lista civica di Cenni, il cui capolista potrebbe essere l'assessore alla sicurezza Aldo Milone, che porterebbe in dote la sua prato libera e sicura. I giochi sono complicati e il sindaco ha dimostrato di non essere più disponibile a farsi tirare per la giacchetta o essere, parole sue pronunciate pochi giorni fa, lo strumento attraverso cui vincere per una spartizione del potere. Un altro cazzotto allo stomaco dei partiti, che se non proprio nel vertice di maggioranza di stasera, ma certo presto, dovranno arrendersi alla volontà di Cenni. Il tempo stringe e la campagna elettorale a sinistra è già decollata. È il momento dei programmi.